L'usura che domina presso di noi è quella del vicinato. Probabilmente vi sono anche altre usure collegate, però per poterle dichiarare bisogna avere in mano fatti precisi. Dati e fatti precisi ben lontani dall'esserci in Basilicata. Sono infatti zero le denunce per usura presentate dal 1 gennaio ad oggi. A dimostrazione di quanto il fenomeno insieme a quello dell'estorsione sia ancora avvolto dal silenzio, legato anche al timore di dover affrontare lo spesso lungo iter giudiziario che segue le denunce. Il quadro è stato tratteggiato in prefettura a potenza in occasione della convocazione dell'osservatorio regionale per la prevenzione dell'usura, convocato dal prefetto annunziato Vardè per fare il punto sull'attuazione del protocollo antiracket ed antiusura stipulato nel 2019. Collegati da remoto il commissario nazionale antiracket Giovanna Cagliostro e il commissario regionale Luigi Gai. Agevolare il rapporto tra banche, imprese e famiglie che troppo spesso risulta tortuoso tra le richieste emerse con più forza nei diversi interventi dei rappresentanti delle associazioni collegate da remoto. È fondamentale agevolare l'accesso legale al credito per contrastare l'odioso fenomeno dell'usura e per combattere adeguatamente anche il racket.